E' arrivata una vittoria importante contro il Cagliari che rilancia le ambizioni europee da Scuola. Sì, rilancia le ambizioni e soprattutto rilancia il continuare a far bene e a conseguire l'obiettivo di crescita della scuola. Diciamo che adesso le ultime partite saranno decisive da scuola. Decisive nel mantenere la posizione che abbiamo mantenuto e il traguardo che abbiamo raggiunto. Qualche giorno fa si è chiuso un bilancio con un utile importante, quali saranno le prossime mosse e se alla luce di questo bilancio potrebbero essere attrattenuti dei big? Questo sta a svelarlo a chi è competente nel settore e non a me. Comunque già il bilancio parla da selezionare. Quali saranno i prossimi obiettivi importanti di questa società che continua sempre ad investire? Beh, sicuramente continuare a far bene e poi perché no, per lui non è una faccia di cambiare, quindi magari se non quest'anno, prossimamente. Resta Gianpaolo? Può essere Gianpaolo l'uomo su cui costruire il futuro? Gianpaolo ci piace molto perché tra l'altro conseglie un po' il nostro obiettivo che è quello di formare, costruire e partire la scena giovane. Quindi sì, speriamo che resti, per ora da contratto resta, poi, insomma, può accadere. Il legame della famiglia al Pellero, al Pellero, ma è un legame che si sta riscaldando. Grazie, sì, noi l'amiamo questa città e anche se l'abbiamo iniziato, insomma, in maniera contatto, purtroppo, diciamo, i migliori però, dove fanno farlo, cerchiamo che ci appartiene, insomma, noi siamo divisi tra due città. Quindi, insomma, è un legame che si incontrava ancora per parecchio tempo? Beh, speriamo, sicuramente, allora, nel futuro prossimo sì. Grazie, ragazzi.